Siamo sul set del nuovissimo spin-off di Nymphomaniac, che girerà i migliori festival italiani. Ci dica un po', dove possiamo intravedere la continuità del lavoro di Lars von Trier nella sua opera? Ma diciamo che sto cercando di mantenere più o meno le stesse inquadrature, la stessa fotografia, un po' stesso linguaggio scenico, diciamo. Quello che cambia un po' ambientazione, gli attori, i protagonisti, insomma. Qui non siamo in Danimarca, vero? Non manco per niente, siamo in Italia. Il bel paese. Preciso. E dove viene fuori il bello nel suo film? Beh, c'è stanno le belle ragazze, le belle ragazze. Saluta, fa un sorriso, pati, più. Quindi le nostre escort sono più belle di quelle danesi. A voglia. Allora prego, prosegue il suo lavoro. E grazie.